Buongiorno a tutti, ben ritrovati, cari telespettatori di Fano TV. Sono le 7.31 e siamo in diretta, anche per iniziare questa nuova settimana. Oggi è l'undì 23 marzo 2015, siamo entrati dunque nella primavera. Oggi è San Vittoriano Martire, il sole è sorto alle 6.07 e tramonterà alle 18.22. Il tempo per oggi, questa è la fotografia di Fano alle 7.30 in punto. Direi che si pronuncia ancora buona, nonostante le nuvole in fondo, sullo sfondo. 10 gradi la temperatura registrata alle 7.30. Oggi le previsioni prevedono al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso per estese nuvole basse che daranno luogo a foschie e nebbie nei settori collinari ed interni. Copertura in graduale attenuazione dalle ore centrali della giornata. Non si escludono precipitazioni deboli in esaurimento già nel corso del mattino. Le temperature sono minime le stazionarie, massime in lieve aumento. Per la giornata di domani, martedì 24 di marzo, avremo un cielo parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso in particolare verso la sera, con probabili deboli e locali precipitazioni nell'entroterra, nel Monte Feltro. Le temperature in ulteriore lieve aumento. Poi per i prossimi giorni avremo ancora una successione di minimi depressionari, quindi cattivo tempo che si formerà sul terreno, determinando durante la seconda parte della settimana, da mercoledì, giovedì in poi, anche sulle Marche, un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Allora, questa gabbia sul Tribunale di Pesaro, sapete che ci sono iniziati lavori di sistemazione del tetto, questi lavori sono stati seguiti ieri da tutti e tre i quotidiani, anche dai fotografi che hanno immortalato il terzo tentativo, che poi è andato a buon fine, di ingabbiare appunto questo cono, che vedete qui sull'immagine. Allora, Damiani ha intervistato il progettista, che è un uomo, un architetto milanese, si chiama Francesco De Agostini, ha 50 anni, ed è autore appunto del progetto di ampliamento del Tribunale in Piazzale Carducci. E tra l'altro il progettista si è detto sconcertato quando questo professionista ha scoperto che la biblioteca, il quarto piano del Tribunale non è stata mai aperta al pubblico. Il Tribunale è stato iniziato nel 1998, ultimato nel 2003 al costo di 13 milioni di euro. Fin dall'inizio si sapeva che sarebbe stato del tutto insufficiente. E il progettista dice non toccate quel cono, perché ha un grande valore estetico e simbolico. De Agostini lavorò insieme appunto a Giancarlo De Carlo. Il cilindro al terzo tentativo è stato posizionato, operazione perfettamente riuscita ieri a mezzogiorno. La Frana ha diviso invece a tavoletto in due il Paese e adesso i cittadini sono esasperati perché dicono siamo isolati. È l'unico collegamento questa strada con la Romagna. Per sistemarla servono almeno 2 milioni di euro. Si tratta della strada provinciale 23. Mentre sulla nuova E78, la Fano Grosseto, dall'Umbria l'idea del consigliere regionale Gianluca Cirignoni, che è un consigliere Umbro, è di appellarsi a Sgarbi, a Vittorio Sgarbi, Vittorio pensaci tu, nel nome delle terre che furono di Piero della Francesca, appunto da ricollegare con quest'opera strategica come la superstrada E78. Insomma tutti a Vittorio Sgarbi, ricorderete anche l'altro appello, quello che vede e vorrebbe in prima linea anche il critico d'arte sul ritorno dell'Isippo a Fano. Dunque, l'aeroporto di Fano diventerà una base militare, ma attenzione, solo per la giornata di domani, fino al 27 marzo, perché l'aeroporto è stato incluso in una esercitazione della prima brigata aerea a operazioni speciali dell'aeronautica militare, che significa che queste esercitazioni prevedono un'intensa attività sia di giorno che di notte, di aerei e quant'altro, elicotteri, immagino, insomma forze speciali ed enti di supporto, quindi insomma domani ci sarà questa esercitazione e quindi insomma un po' di trambusto. La nuova gestione degli immobili comunali, riposizionamento delle sedie affitte e destinazioni, è quanto è già cominciato, perché con la concessione della sede all'Associazione Davide De Marini nei locali dell'ex circolo anziani di Sant'Arcangelo, in Vierina Dulci 30, è partito il primo passo di tutta una serie di riposizionamenti che il Comune di Fano intende attuare per operare una consistente serie di risparmi nella gestione degli immobili, quindi gli affitti, le utenze, le spese condominali dove hanno sede anche i suoi uffici. Per quanto riguarda lo sport, intanto la vittoria del Fano ieri a Civitanova, la ventisettesima giornata di Serie D, la vetta dunque torna a meno 6, nel senso che siamo a meno 6 dalla prima, che è la maceratese, che ieri ha pareggiato 2 a 2, ieri invece il Fano ha vinto 2 a 1, i Granata vanno sul 2 a 0 e sbagliano anche un rigore, nel finale invece accorcia Degano, che è il giocatore della Civitanovese. La società di Civitanova, insomma, è una società sotto... nel mirino dei tifosi, è contestata dai tifosi, non c'era tanta gente ieri a supportare la squadra locale, 140 invece i tifosi del Fano, mister Alessandrini dice ci siamo un po' rilassati nel finale, ma comunque va bene così. Carrer, che invece è l'allenatore della Civitanovese, conferma che se le cose non cambieranno, lascerà la panchina della Civitanovese. La generosità di questi ragazzi è straordinaria, tant'è che la società credo non dia più neanche gli stipendi ai giocatori, all'allenatore, addirittura i tifosi, pare che abbiano fatto una colletta per dare un po' di forza, un po' di grinta alla squadra. Poi, ovviamente, quando si scontrano con la seconda in classifica, come il Fano, torna comunque, nonostante gli stipendi che non sono stati dati, eccetera, torna un po' la dignità, la grinta, la voglia comunque di battersi fino all'ultimo respiro. Vispesor invece, porte aperte al Chieti, la vis che ha perso 4 a 3 in casa, al Benelli, appunto, contro il Chieti. Apriamo adesso il Corriere Adriatico. Questa è la storia che arriva da Senigallia, un incubo che ha vissuto per tanti anni una famiglia di Napoli. Il titolo è questo, un incubo altro che nonnina. Siamo stati tormentati per 28 anni dall'anziana vicina. È il racconto di alguati e di minacce. L'ultima presa di mira è una coppia originale appunto di Napoli, ma dicono non ce ne andremo, non ce ne andremo. Adesso questa donna di 73 anni è ricoverata nel reparto di psichiatria dell'ospedale Senigallia e insomma era stata condannata anche a un anno nel 2010. Marinelli del Corriere Adriatico racconta questa difficile storia di vicinato. Dalla pagina di Pesaro invece albergatori riuniti confronto con il comune di Pesaro diverse critiche alla giunta su tassa di soggiorno sul logo e sulla notte rosa. Per Pasqua aperti soltanto pochi alberghi. Gli operatori chiedono contributi per le iniziative di animazione del 2015 sinergie con lo sport. Una lettera a tutti i sindaci per bandire l'uso dei pesticidi è una lettera che parte da Fossombrone per iniziativa dell'associazione articolo 32 dopo il convegno che ha messo in evidenza i rischi per la salute dei prodotti chimici per l'agricoltura. L'invito del presidente Sadore è quello di ricorrere al regolamento di polizia e alle ordinanze. Andiamo sull'altra pagina del Corriere devono tornare a casa sono parole e l'esasperazione dove c'è tutta l'esasperazione dentro del sindaco di Fermignano Giorgio Cancellieri leghista il sindaco contro i due ubriachi che hanno causato ferimenti e danni è una notizia dei giorni scorsi. La pagina di Fano invece ricercatrice fanese attiva studio mondiale Sara Biagiotti con un lavoro finanziato con 2.000 euro promuove un investimento di 26 milioni. Dalla pagina di Pesaro invece del messaggero Spacca sarà giudicato dagli elettori Quagliariello sta per formalizzare l'appoggio di area popolare Punzecchia e il PD centrodestra dubbi di FD e Lega Fratelli d'Italia e Lega i Dem e i Democratici oggi si riuniscono per decidere la sfiducia Croce Rossa e Capitaneria di Porto vigilanza più soccorso l'accordo prevede la presenza di personale della Croce Rossa quindi personale sanitario a bordo delle motovedette della Capitaneria di Porto questo per essere ancora più incisivi nell'assistenza più celeri quindi dovesse succedere speriamo di no qualcosa in mare ecco con questo accordo i sanitari saliranno a bordo della motovedette quindi i primi soccorsi potrebbero già arrivare in mare aperto chiudiamo con la pagina di Pesaro e provincia Alberto Drudi Presidente della Camera di Commercio di Pesaro Urbino dicono addio insieme al Comune alle società partecipate Drudi valuta l'uscita dal Cosmob e dall'aeroporto di Fano l'assessore Briglia dice via da Megas Net e Convention Bureau l'amministrazione punta anche ad un unico CDA per parcheggi Aspes e Agenzia per l'innovazione più sotto Fano confronto con Aset e Giunta lavori in centro commercianti in municipio gli esercenti di Corso Matteotti Piazza Costanzi e Via Cavur sono attesi oggi alle 12 in municipio per un confronto con la Giunta comunale e con Aset Spas sui lavori per sostituire le tubazioni principali dell'acqua e poi sotto le poste congelano le chiusure annunciate i sindacati nel Pesarese nessuna certezza mentre anche il DJ di Radio 105 piange Davide per 30 anni ha detto il DJ hai rincorso il tuo sogno domani a Miami il funerale del giovane ristoratore ucciso da un'auto pirata poi il rientro della Salma in Italia ed è tutto grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa ci rivediamo domani mattina alle 7.30 invece questa sera alle 8.30 alle 20.30 c'è il nostro Tg Occhio alla Notizia buona giornata a tutti grazie per aver guardato